subito alla prima posizione, prima posizione come la settimana scorsa è ancora il collega giornalista Massimo Gramellini, il libro si chiama Fai bei sogni ed è anche in questo caso un libro biografico perché appunto parla della sua storia e noi questa settimana abbiamo una sorpresa che appunto gli amici di Longanesi hanno voluto farci e vi facciamo vedere il book trailer del libro che è molto carino, se possiamo, eccolo qua, adesso sentiamo anche la musica, guardate questa tecnica di miniaturizzazione, il libro è molto toccante, chi l'ha letto ha detto che colpisce, è solo il suo secondo romanzo perché lui comunque è un giornalista si è sempre occupato comunque, scrive sulla stampa, ha scritto altri libri con appunto di carattere giornalistico, ma questo lo si vede anche dalla delicatezza, molto delicato, stavo proprio per dire delicato, eccolo qua, è finito, ricordiamolo, Longanesi, primo posto questa settimana della classifica degli book più venduti c'è appunto questo libro di Gramellini, abbiamo anche abbassato il tono della voce, sì perché nella sua dente all'ordine